Unire sempre di più la Sicilia attraverso il miglioramento delle infrastrutture è uno dei punti principali del programma politico del nuovo governo regionale guidato da Renato Schifani. In quest'ottica si è svolto lo scorso venerdì l'incontro fra l'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Arrico e i vertici di Anas Sicilia. È stata l'occasione per fare il punto sulla situazione delle autostrade e delle strade siciliane. Riteniamo che nell'arco dei prossimi tre mesi potremo sicuramente ridurre il tempo di percorrenza delle prime due arterie di cui parlavamo cioè la Palermo Catania e la Palermo Agrigento di almeno il 20%. Durante l'incontro si è parlato dello stato dei cantieri nell'autostrada A19 Palermo Catania nella strada statale 121 Palermo Agrigento con i lavori di ammodernamento nel tratto fra Bolognetta e del Carafriddi e della costruzione della strada Catania Ragusa. Il primo incontro istituzionale ci siamo conosciuti abbiamo presentato quali saranno le iniziative del nuovo governo. Loro ci hanno rappresentato lo stato d'essere delle autostrade, delle strade siciliane. Siamo rimasti con loro che ci rivedremo prossimamente nei loro uffici per verificare tutti i progetti in essere cantierabili che metteranno in atto nelle prossime settimane e lo stato di avanzamento dei lavori esistenti. Abbiamo parlato di tre grandi arterie naturalmente la Palermo Catania, poi ci siamo soffermati sulla Palermo Agrigento e poi l'autostrada di nuova costruzione che sarà la Catania Ragusa. Erano presenti oltre all'assessore il dirigente generale del Dipartimento regionale infrastrutture Fulvio Bellomo, il direttore territoriale ANAS Sicilia Raffaele Celia, il responsabile area gestione a rete Palermo Domenico Curcio e il responsabile area autostradale ANAS Enrico Azzeni. Nelle prossime settimane a conclusa Ricò faremo dei sopralluoghi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Si è trattato di un primo incontro istituzionale fra il governo regionale e i vertici di ANAS Sicilia in cui l'assessore ha presentato le iniziative dell'esecutivo regionale sul fronte della viabilità ricevendo rassicurazioni sull'andamento dei cantieri.